anche la nona sera mastro catrame fu puntuale come il cronometro di bordo battevano le otto quando si vide il suo berretto vecchio di almeno mezzo secolo spuntare dal boccaporto poi apparire quel lungo corpo magro ma ancora robusto si spinse fino a prua per osservare lo stato del mare e del cielo fece bracciare la vela di parrocchetto onde prendesse più vento diede uno sguardo alla bussola per accertarsi dell'esattezza della ruota poi accese la sua pipa e andò a sedersi al suo solito posto sul trono come diceva scherzando l'equipaggio pochi istanti dopo tutto l'uditorio era a lui dintorno poiché la curiosità non scemava anzi cresceva ogni sera e tutti avrebbero voluto che il capitano prolungasse ad altri giorni ancora la pena del povero vecchio quantunque certe volte avesse narrato delle storie così lugubri da sconvolgere il sangue a più d'uno e mettere indosso a tutti delle brutte paure papà catrame doveva durante il giorno aver già pensata e preparata la sua novella poiché appena seduto senza preamboli e senza farci attendere come era solito disse vi narrerò questa sera l'incontro da me fatto d'un mostro spaventevole di cui si sono occupati a lungo i cosiddetti scienziati alcuni affermando nell'esistenza e altri negandola spudoratamente non intendo parlare di uno di quei mostri immensi che i popoli nordici chiamano kraken né di quello segnalato da olaus magnus vescovo di upsala e che si disse avesse un miglio di lunghezza e somigliasse più a un'isola che a un pesce né di quell'altro veduto da un prete scandinavo sul cui corpo celebrò la santa messa avendolo scambiato per una roccia no papà catrame è più ragionevole di quello che sembra né poi tanto credenzone quanto lo giudica il signor capitano e affrotto le così colossali non presta fede non dico che quei due santi uomini non possono aver veduto dei mostri enormi forse simili a quello incontrato dal comandante dell'avviso a vapore a lecto fra madera e le isole canarie or son pochi anni e di cui si conserva ancora un pezzo di coda o di braccio a santa croce di tenerife quello era un polipo grandissimo sì ma non tale da scambiarlo per un'isola lasciamo però andare questi kraken delle leggende nordiche e occupiamoci del mio mostro l'hai proprio veduto tu gli chiese il capitano che prestava una profonda attenzione coi miei occhi di giorno di notte c'era però la luna e ci si vedeva abbastanza bene allora cominciano a nascermi dei dubbi e quali se hai permesso conoscerli chiese il mastro con tono risentito te li dirò più tardi ora prosegui perché non sappiamo ancora di quale mostro tu intenda parlare ebbene avete mai udito parlare del serpente marino sì sì esclamarono tutti credete alla sua esistenza nessuno rispose tutti ci guardammo l'un l'altro in viso non sapendo dire né sì né no ma sono certo che più inclinati al meraviglioso come tutti i marinai avrebbero risposto in modo affermativo piuttosto che negativamente forse non credete riprese papà catrame ma avete torto poiché ve lo ripeto l'ho veduto io coi miei occhi come dissi l'esistenza di questo mostruoso serpente fu messa lungamente in dubbio anche dai più vecchi marinai però alcuni affermano in epoche diverse di averlo incontrato le opinioni loro naturalmente sono disparate altri dicevano che era a lungo più di mille metri altri 500 altri riducevano la misura più modeste proporzioni al 100 a 150 non però a meno chi dice che è dotato di una forza così potente da stritolare fra le sue spire un vascello chi invece essere gelatinoso come i polipi e senza consistenza alcuni narrano di essere stati essaliti e altri di averlo invece veduto fuggire appena si accorse di essere stato scoperto l'equipaggio di una nave danese affermò di averne tagliato a mezzo uno con un colpo di sperone e che le due parti perdettero tanto sangue da arrossare il mare per un tratto di mille metri quadrati boom esclamò il capitano aveva una cantina nel corpo quel serpente non ne so più di voi rispose serio serio papà catrame quanto a me non presto che una fede molto relativa a tutti questi racconti ora lasciatemi proseguire non mi interrompete se desiderate che me la sbrighi presto poiché sento che la mia lingua si ingrossa con questo faticoso esercizio e se non mi affretto a dire finirò di perderla navigavo da circa tre anni a bordo di un barco maltese che faceva dei lunghi viaggi in america nell'estremo oriente e anche nel grande oceano pacifico un buon veliero forse il migliore che io abbia montato in tanti anni di navigazione e comandato dal più abile capitano che abbia conosciuto durante questo lungo tempo nulla di straordinario era accaduto navigavamo come tranquilli passeggeri che vanno a diporto per mondo anziché come poveri marinai e mangiando bene e bevendo meglio senza mai aver incontrata una di quelle formidabili tempeste che fanno rizzare i capelli ai più coraggiosi e stringere il cuore anche a chi non è alle prime sue armi il capitano che era un epulone e anche un mattacchione offriva di quando in quando dei banchetti al suo equipaggio o delle bicchierate memorabili che facevano dei grandi vuoti nella sua cantina quando poi il tempo era tranquillo e la notte illuminata dalla luna non mancava mai di improvvisare delle feste da ballo fra l'albero di trinchetto e quello di mezzana un giorno mentre ci disponevamo a lasciare l'isola di tonga che fa parte anzi è la principale del gruppo omonimo un capo indigeno a cui avevamo fatto dei regali ci mandò a bordo due granchi ladri cosa sono i granchi ladri chiedemmo tutti eccettuato il capitano il quale senza dubbio sapeva cos'erano ve lo dico subito in quattro parole rispose il mastro sono dei granchi grossi assai con delle morse così potenti che spaccano una noce di cocco con la massima facilità vivono in grande numero sulle isole dell'oceano pacifico presso alle spiagge un d'essere più vicini agli alberi di cocco sui tronchi dei quali si arrampicano per mangiare le frutta gli isolani sono ghiotti della loro carne e li cercano avidamente se poi sia eccellente o no io lo ignoro non avendone mai assaggiata ma disse il capitano cosa c'entrano qui i girbus latro questo è il vero nome di quei granchi col serpente di mare tu divaghi papà catrame c'entrano per qualche cosa signore rispose il mastro poiché furano quei due granchi a chiamare sul nostro veliero le disgrazie e come mai io non lo so il cuoco di bordo mi disse con tutta serietà che quelle bestie portano sfortuna e non si è ingannato poiché dopo la loro comparsa cominciarono tempeste disgrazie e facemmo l'incontro del serpente di mare o diamine esclamò il capitano schiattando dalle risa lo vedrete fra poco rispose il mastro sempre serio e grave passo sopra alle tempeste che ci assalirono poco dopo ai due o tre marinai che si ruppero le braccia e le gambe sempre per colpa di quei granchi che ci avevano attirato addosso l'ira del re del mare tale almeno la mia convinzione poiché si dice fra gli isolani che siano quei crostacei i suoi favoriti e vengo al punto più interessante se ben mi ricordo stavamo attraversando quel tratto di oceano che si estende fra le isole dell'arcipelago di vendagna e la costa d'america quando una sera mentre stavamo danzando e bevendo in buona allegria si verificò un fenomeno che non solamente ci sorprese ma ci spaventò assai il nostro legno filava a quattro o cinque nodi all'ora spinto da buon vento largo quando a poco a poco rallentò la corsa finché rimase quasi immobile sul tranquillo mare da prima credemmo che il vento fosse improvvisamente cessato ma i mostra vento spiegati sulla cima degli alberi indicavano il contrario e poi le vele erano sempre gonfie segno evidente che tiravano ancora meravigliati d'un tal fatto che per noi tutti era inesplicabile ci precipitammo verso prua per vedere se qualche ostacolo si opponeva alla corsa del nostro legno nulla appariva gettammo la sonda per vedere se vi era qualche banco ma lo scandaglio non toccò fondo quantunque fosse sceso a quattrocentocinquanta braccia guardammo a poppa credendo che qualche mostro si fosse aggrappato al timone e nulla si vide che potesse convalidare il nostro sospetto nessuno sapeva spiegare quello strano e sorprendente fenomeno alcuni dicevano che qualche grande polipo si era attaccato alla nostra chiglia e ci aveva fermati altri dicevano che forse il mare era in quel punto così denso da impedirci di avanzare e che per conseguenza dovevamo virare di bordo ma erano sciocchezze a cui nessuno prestava fede il nostro barco rimase quasi immobile per un buon quarto d'ora poi tutto d'un tratto si mise a veleggiare con la primiera velocità però allorché si mosse vedemmo a poppa il mare gonfiarsi e ribollire e un marinaio assicurò di aver veduto qualche cosa di nerastro a girarsi fra la spuma come un braccio smisurato o un immenso cilindro ci aveva fermati qualche mostro marino di nuova specie e non altro per quella sera però nulla potemmo sapere durante tutta la notte l'intero equipaggio veglia sul ponte già che nessuno pensava a dormire e parecchi uomini si tennero armati di ramponi e di carabine nulla accadde fin verso le due del mattino allora un gabbiere che si era arrampicato sulla crocetta dell'albero di trenchetto asserì di aver veduto appena un miglio sottovento un cono ergersi dal mare simile a una tromba marina non ho potuto constatare il fatto coi miei occhi ma non mi sembra tuttavia che potesse essere una tromba già che il vento era leggero l'oceano tranquillo o quasi e il cielo sgombro di ogni nube verso l'alba però vidi il mare sollevarsi sotto la poppa del nostro legno e intesi distintamente una specie di fischio poco meno acuto di quello che ordinariamente emettono i serpenti questo nuovo fenomeno ci spaventò e anche il nostro capitano cominciò a impensierirsi tanto più che si sospettava la presenza d'un mostro marino vi rammo di bordo cambiando rotta con la speranza di fargli perdere le nostre tracce e infatti il nostro barco filò verso nord senza incidenti durante tutta la giornata già ci rallegravamo di essere scampati a quel misterioso pericolo quando due ore dopo calato il sole ecco la nostra nave a poco a poco arrestarsi e poi oscillare abbastanza fortemente da bordo a tribordo il nostro stupore si cambiò in una vera paura da non potersi descrivere dal capitano all'ultimo mozzo erano tutti pallidi e io tremavo più degli altri guardammo tutto intorno alla nostra nave ma nulla pariva a fior d'acqua eppure il rollio continuava e tanto che credemmo di venire da un istante all'altro gettati in mare e subissati l'oscurità cresceva la nostra paura il cielo si era coperto e la luna e le non proiettavano sulla nera superficie dell'oceano nessun chiarore che permettesse di distinguere alcuna cosa con precisione più tardi la nostra attenzione venne attirata da un potente fischio che veniva dal largo corremmo tutti a prua stringendo le armi credendoci assaliti dal misterioso mostro che ci poteva ben distinguere in causa dell'oscurità navigava in modo da tagliarci il passo rottando una specie di nebbia o di fumo si teneva quasi tutto sommerso ma dietro alla sua testa che poteva essere lunga 20 metri vedemmo di stendersi sul mare un corpo lungo lungo serpeggiante che si perdeva verso il nord non so quanto misurasse tutto intero poiché come dissi la notte era oscura ma io non esito ad affermare che superava il miglio virate di bordo tuono il capitano con voce strozzata per l'emozione non so come in meno di 20 secondi la manovra fu eseguita e il nostro legno fuggì verso il nord ma percorse sei o sette gomene si trovò dinanzi alla coda del mostro che fu tagliata nettamente per metà e con una facilità tale che nessuno di noi si accorse del meno morto era di burro quel serpente chiese il nostro capitano guardando con aria ironica mastro catrame di burro vi basti pensare che al mattino trovammo nella sentina un piede d'acqua entrata da due fori perfettamente regolari del diametro di 15 o 20 centimetri aperti uno a bordo un po' sopra il paramezzale e l'altro a poppa ditemi che specie di denti aveva quel serpente di burro e siete andati a picco chiedemmo no rispose papà catrame ci riuscì facile chiudere quei due fori e asciugare la stiva col mezzo delle pompe ma tale fu lo spavento provato da quell'incontro che parecchi marinai si ammalarono io sarò un credulone ma dico che se quei due granchi non fossero stati a bordo chissà il re degli abissi marini non ci avrebbe mandato addosso quel formidabile serpente la cui esistenza molti mettono in dubbio ciò detto il vecchio scese dal barile e fece per andarsene ma il capitano che da qualche minuto era diventato pensieroso lo fermò con un gesto una spiegazione chiese il vecchio aggrottando la fronte forse non credereste a ciò che vi ho narrato non credo al tuo serpente e il quale non esiste che nel cervello degli ignoranti mastro catrame alzò il suo curvo dorso puntò le mani sui fianchi guardò il suo eterno contraddittore con un'aria di sfida che fossimo tutti ciechi esclamò spiegate voi adunque questo fenomeno sì disse il capitano come parlando fra se stesso deve essere così ne sono certo e bene rispose poi ad alta voce e sostenendo serenamente lo sguardo fosco del vecchio ti spiegherò io tutto non posso assicurare per quale motivo la vostra nave sia stata fermata e scrollata ma io ritengo che si fosse aggrappato alla vostra chiglia qualche mostro fornito di braccia potenti un polipo gigante per esempio oppure un cefalopodo questi polipi hanno dei tentacoli che raggiungono e talvolta sorpassano una lunghezza di dieci metri sono dotati di una forza straordinaria e possono far oscillare una nave anche grossa il caso non sarebbe nuovo ammettiamolo rispose il mastro in quanto al serpente marino vi siete tutti ingannati cominciando dal tuo amabile capitano sono convintissimo che voi abbiate incontrato nient'altro che una pacifica balena occupata a pranzare fra un banco di alghe le dimensioni del capo del preteso serpente che era invece l'intero corpo del cetaceo le nubi di vapore che lanciava dagli sfiatatoi e il fischio acuto bastano per dimostrare che io non mi inganno la coda del serpente non era altro che un lungo banco di alghe eccellente pastura delle balene se così non fosse la vostra nave non avrebbe tagliato l'appendice del mostro smisurato hai veduto tu quella coda contorcersi o sollevare ondate quando la vostra nave la investì dimmelo francamente papà catrame no rispose il mastro che si grattava furiosamente la testa ma quei due buchi quei due buchi ecco il punto scuro un polipo non può averli fatti un cetaceo nemmeno un pesce a spada no quantunque sovente pianti il suo corno nella carena delle navi ma senza riuscire ad attraversarla e questa è bella ridete esclamò il mastro vi è da ridere papà catrame e come rispose il capitano dimmi li avete mangiati i due granchi ladri i due granchi mormorò il mastro che parve colpito ma no perbacco erano chiusi in una cassa e cosa vuoi dire quando asciugammo la sentina li trovammo nascosti colà i furboni avevano rotto la cassa eppure era grossa e solida sappi allora papà catrame che il vostro legno era stato sabotato dai due fuggiaschi avevano sete e con le loro robuste morse che fendono le durissime noci di cocco hanno praticato quei due buchi per bere vecchio mio che granchio hai preso va a dormire e per domani sera prepara qualcosa di meglio e il mastro non fietava più guardava il capitano come trasognato con certi occhi che parevano quelli d'un pazzo quando si alzò lo udimmo mormorare decisamente con le mie novelle non farò mai fortuna quella notte non so per quel capriccio il vecchio non discese nella sua cala e dormì sul ponte fra due velacci e un rotolo di gomene che non so per quel capriccio il vostro legno di gomene